Allora Maggio lo convocherei ma mi sembra che non sia convocabile per un fatto di tutore ancora da dover allimare e comunque anche lui deve un pochino al di là che si è allenato in questa settimana ha fatto tutto però era un po' condizionato da questa nuova situazione che ha sulla mano diciamo tra virgolette quindi non credo che sarà convocato.